ciao a tutti io sono esposito saluto tutti gli ascoltatori di radio android ringrazio mario per l'invito allora presentati io sono diego esposito e sono un cantautore toscano sono nato a empoli e i miei genitori invece sono napoletani infatti esposito insomma non è proprio toscano come cognome e vivo a milano la mia passione per la musica quando nasce la mia passione per la musica nasce ma che ero veramente tanto piccolo ho iniziato da piccolo a suonicchiare il piano forte a cantare mi è sempre piaciuto appunto fare musica e ho sempre pensato di fare musica non ho mai pensato di fare altro nella mia vita come nasce la tua carriera la mia carriera nasce qualche anno fa diciamo da quando mi sono trasferito a milano già da prima scrivevo canzoni però diciamo ho fatto un bel po di gavetta nei peggiori locali di milano ho iniziato a suonare qua ho studiato musica in un'accademia musicale qua a milano e poi niente ho fatto il mio primo disco nel 2017 che si chiama è più comodo se dormi da me parlaci delle tue nuove uscite musicali allora le mie nuove uscite musicali vi dico che è uscito un mio secondo disco che si chiama biciclette rubate sono dieci tracce che vi consiglio di ascoltare le trovate su tutti i digital store spotify itunes apple music deezer eccetera eccetera il mio ultimo singolo che appunto fa sempre parte di questo disco si chiama solo quando si ubriaca trovate anche il video su youtube con chi ti piacerebbe collaborare nel mondo della musica questa è una domanda è una domanda che può avere delle risposte molteplici mi piacerebbe collaborare con tantissimi artisti nazionali e internazionali la sparo altissima come artista internazionale mi piacerebbe lavorare con Damian Rice che è il mio tanto autore preferito straniero e invece come artista italiano mi piacerebbe collaborare con De Gregori mi piacerebbe molto quali sono le caratteristiche secondo te un buon cantante deve avere ma sicuramente la caratteristica principale di 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 che un buon cantante deve avere è la caparbietà e poi vabbè sicuramente deve essere intonato però non è forse la 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 cosa principale per un cantante deve essere determinato un buon cantante se vuole essere fare il cantante come come mestiere deve essere determinato sicuramente quali sono i sogni che vorresti realizzare nella tua carriera musicale allora il mio sogno anche qui ci sono secondo me risposte molteplici mi piacerebbe prima o poi fare Sanremo mi piacerebbe vincere un Grammy questo è ancora più realizzabile però vabbè mi piacerebbe comunque continuare a crescere sotto il punto di vista musicale autorale vorrei scrivere cioè il mio sogno è il principale forse è che vorrei essere sempre felice di quello che faccio come lo sono oggi vabbè l'intervista è finita io saluto tutti gli ascoltatori di radio android e ringrazio ancora tantissimo Mario per questo invito ciao alla prossima ciao